Ed eccolo qui arrivato a Pescara, Rick Boius, dalla redazione dell'Ansa di Bari a quella di Pescara, Abruzzo e Molise, per questo scopo nobile. Spero che sia nobilissimo, è un giro per una raccolta fondi per sensibilizzare una malattia i più sconosciuta che vorrei portare una maggiore visibilità. C'è anche il ricordo di un pilota, un motociclista che è scomparso di recente, anche questo ragazzo è nei suoi pensieri nel suo ricordo. Assolutamente sì, si tratta di Andrea Antonelli, mancato due anni e fa circa, nel Gran Premio di Russia che non si doveva correre per le condizioni meteo e purtroppo le federazioni a volte sbagliano e si portano via dei ragazzi giovani. 4.000 km da percorrere per tutto lo stivale, quanto è difficile, quanto è duro fare tutti questi chilometri con una Vespa 50? Facile non è, non è neanche difficile quando hai un obiettivo, comunque i chilometri sono 5.700. Lei è sponsorizzato dall'Ansa, come mai questa collaborazione con la più importante agenzia di stampa italiana? Io sono comunque un collaboratore dell'Ansa tutto l'anno. L'ultima, il suo cognome, nasconde probabilmente origini non italiane, olandesi? Esatto, sono un olandese che vive qui in Italia da tantissimi anni. Buon viaggio! Grazie, assolutamente! Grazie! Grazie!